Live on air qui di nuovo su Medio Teleradio all'interno di Hospitality Day nella nostra area talk show. E siamo qui questa volta in compagnia di un altro relatore molto importante, un tema qui molto caldo, abbiamo Gianluca La Terza che è il Senior Territory Manager Sud Europa, specifichiamo, di TripAdvisor. Quindi Gianluca so che stamattina hai avuto il tuo intervento e raccontaci un po' quali sono le nuove sfide e anche le nuove opportunità che il settore alberghiero si trova ad affrontare. Vai! Sì, grazie innanzitutto. Questa mattina il mio intervento era incentrato sullo strumento del Metasearch, del comparatore di prezzi. Siamo andati scoprendo questo strumento, uno strumento che si inserisce nell'ambito di un trend molto positivo, perché se osserviamo già solo l'aumento del traffico che c'è stato negli ultimi 4 anni, che è quasi triplicato sul Metasearch, quindi questo dice tutto, insomma il successo che sta avendo e quali sono poi le prospettive future, perché si parla di uno strumento che per quanto riguarda il vantaggio che ha portato alla industria, è allargato enormemente la inventory, cioè la lista di hotel, ma non solo, dal nostro punto di vista la lista delle scelte, delle opzioni che ci ha dato, ad esempio all'inizio del mondo web digitale, la prima figura di riferimento erano i siti degli hotel individuali. Davanti a un sito così, l'unica scelta che mi si dava era quella appunto di andare o non andare, di prenotare o di non prenotare in quell'hotel, ma poi sono arrivati lì i siti di catena, i siti di catena mi offrivano già opzioni più ampie, perché? Perché magari parliamo di una grande catena, aveva 3-4 hotel nella stessa destinazione, appunto mi si dava questa scelta più ampia. Il vantaggio iniziale apportato al sistema da parte delle online travel agencies è stato proprio, più che quello a cui si fa sempre riferimento il prezzo, è stato proprio questo allargamento in modo consistente della inventory, cioè le OTA hanno dato la possibilità nella stessa destinazione di scegliere fra centinaia di hotel, tutti gli hotel della destinazione. E poi è arrivato il comparatore di prezzi, che ha portato all'estremo questo allargamento delle inventory, perché nel comparatore di prezzi come TripAdvisor, ma abbiamo altri comparatori e questa mattina li abbiamo confrontati per quanto riguarda le performance, il traffico, i referral, eccetera, appunto hanno portato all'estremo questo allargamento dell'inventory nel senso di dare la possibilità a me di scegliere per lo stesso hotel diversi prezzi a seconda del player di riferimento, quindi il prezzo di booking, il prezzo di Expedia, il prezzo dell'hotel individuale, eccetera. Sì, è un po' come si fa anche in ambito dei voli aerei, no? Assolutamente, quindi è chiaro che questo dal punto di vista dell'utente significa una ampia possibilità di scelta. Infatti quali sono quindi i benefici per una struttura ricettiva nell'usufria di queste piattaforme e poi della vostra? Sì, possiamo parlare delle tre ragioni per cui oggi un hotel individuale dovrebbe investire sul Metasearch, no? Che poi, ripetiamo, può essere TripAdvisor, può essere Trivago, può essere Google, eccetera. E innanzitutto il traffico sta andando verso quella parte, quindi il traffico sta andando verso il Metasearch e quindi tu che devi fare? Devi seguire gli utenti, devi seguire il comportamento degli utenti. Poi ancora... Inseguirli, però, perché è uno stalker digitale, diciamo, un stalkeraggio digitale. Però, insomma, questo trend è chiaro, la gente va sempre più... Ci stiamo muovendo, di questo ne abbiamo parlato molto dettagliatamente questa mattina, ci stiamo muovendo da un tipo di ricerca orizzontale, cioè quella che io andavo a fare quando dovevo scegliere un hotel a Roma, ad esempio, andavo su Google, il search engine di Google, digitavo hotel Roma. Questo è un tipo di ricerca orizzontale e sempre meno la gente usa questo tipo di ricerca. Oggi si sta passando a un tipo di ricerca verticale, cioè specifica su piattaforme specifiche per i viaggi, aggregatori, OTA, Metasearch soprattutto. E quindi, innanzitutto il traffico sta andando lì, ma poi ancora direi un'altra cosa, il comparatore di prezzi rappresenta oggi un rilevante strumento di advertising, di pubblicità, perché la gente vede sul Metasearch il mio prezzo, la mia offerta, con il mio brand. Anche noi, ecco, il Metasearch come lo paghi? Lo paghi a cost per click, cioè in termini di cost per click, cioè paghi ogni singolo click quando la gente decide di cliccare e andare oltre nel processo di prenotazione. ma c'è tutta quella parte che io non pago, che sono le impressioni, cioè quante volte la gente guarda il mio brand associato con la mia offerta. È marketing. Quello è marketing. Esatto. Basta pensare alla regola che si studia in tutti i testi di marketing, la regola del 7, no? Cioè almeno 7 volte perché un brand resti impresso nella mente e faccia poi, no? Abbia conseguenze. Per costruire la relazione fondamentalmente. E quindi tutta questa parte è un advertising impression che tu non paghi, gratuita. Certo. Seconda ragione quindi. Infatti, cioè qualcuno la vede come un anno 1.3, invece è un investimento che ti ha voglia il ritorno, no? Quindi quanto ti costerebbe essere visibile a così tante persone? Tu sei in grado poi, no? Quindi ogni tanto anche la mia preoccupazione è quella, se sei in grado da solo, va benvenga, no? Ma siccome non è proprio così, no? Quindi utilizziamo la tecnologia a favore nostro, secondo me. Assolutamente. Soprattutto considerando un hotel individuale che il cui brand ha bisogno di comparire, di ottenere visibilità, beh, il comparatore di prezzi, il Metasearch, rappresenta un ottimo strumento. E poi c'è l'ultima cosa, abbiamo parlato anche in questa intervista della differenza fra ricerca verticale e ricerca orizzontale. Beh, se la gente si sta muovendo da una ricerca orizzontale a una ricerca verticale e se, l'abbiamo detto anche stamattina nella presentazione, la ricerca orizzontale che si faceva prima non conviene comunque all'hotel, si può fare anche adesso, ma non conviene all'hotel in termini di costo, perché per apparire nei primi risultati di una pagina di Google Search, io devo investire tantissimi soldi che magari agli online travel agency non fanno nessun, non sono un problema, perché mi deviano il traffico, mi portano il traffico su una pagina che è piena di hotel, ma per un hotel individuale anche una piccola catena sono soldi e quindi il ROI non è così ottimale come vorrebbero. Quindi è chiaro, siccome la gente si sta muovendo da una ricerca orizzontale a una ricerca verticale, considerare il Metasearch che è anche più conveniente dal punto di vista economico, dal punto di vista del ROAS, quindi del ritorno sull'investimento. Poi vogliamo raccontare un po' anche quali, so che c'è una nuova piattaforma, versione beta, di cui mi anticipavi qualcosina, vuoi accennare qualcosa anche su questo, che cosa puoi accennarci di questo? Sì, è ancora in versione beta come hai detto, quindi ancora non è on live per tutti, io personalmente lo sto già utilizzando, diciamo che è una nuova realtà per TripAdvisor, perché TripAdvisor diventa social, non che prima non lo fosse, ma diciamo che rafforza quella parte di social, che cosa si può fare oggi, che cosa si potrà fare fra qualche mese, prima della fine dell'anno, così abbiamo annunciato su TripAdvisor. Su TripAdvisor con il tuo account si potrà ad esempio mettere like sul contenuto prodotto da altri, ritwittare il contenuto prodotto da altri, diciamo ritwittare, ma ecco, fare ripostare, condividere il contenuto di altri, creare i propri contenuti, ancora ad esempio c'è questo direct messaging, quindi tutti gli attori che sono operatori, quindi albergatori, ristoratori o gestori di attrazioni, gli utenti, quindi i viaggiatori, sono in collegamento continuo l'uno con l'altro, possono scambiarsi informazioni, si possono creare album dove io condivido i miei viaggi, il cibo, tutto quello che ho fatto, dove sono andato, dove ho mangiato, dove ho dormito, eccetera, questo può essere visto dai miei amici, dagli amici della polizia, non c'è più scampo, sono i fatti nostri, tutto è social, noi ci siamo voluti, abbiamo voluto dare un'impronta ancora più social, perché? Perché crediamo nella condivisione, oggi Jona Berger, c'è un libro molto bello di Jona Berger che parla proprio della condivisione come una social currency, cioè una moneta sociale, cioè qualcosa, con la moneta che cosa si fa? Si dà questa moneta per ottenere in cambio qualcosa, perché parliamo di moneta sociale? Perché io do, condivido un'informazione per avere in cambio qualcosa, che cosa in questo caso? L'approvazione degli altri, ecco perché noi condividiamo, i bisogni di approvazione, i bisogni di importanza, bravo, noi condividiamo informazioni proprio per questo, ecco perché, bisogna far sentire importante la gente e il social è un mezzo per far sentire importante le persone. Mi devo sentire importante io, devo io ottenere la tua approvazione e quindi ti devo dare un segreto, ecco perché il miglior modo per far sapere a tutti qualcosa è dare un'informazione a qualcuno dicendo non lo dire a nessuno. Ovviamente. Vabbè perché in quel caso ti sto dando... Di tanto valore, no? Di estremo valore. Chi che ha lanciato queste, le donne all'interno di TripAdvisor? No, bene Gianluca, non so se c'è qualcos'altro che vuoi dare un ultimo messaggio al settore alberghiero? Sì, un'altra cosa che ho sottolineato questa mattina è che dico sempre con piacere che TripAdvisor non solo ormai è il più grande portale, ma questo l'abbiamo detto sempre, il più grande portale al mondo dei viaggi, ma la cosa più interessante è che continua a crescere e cresce enormemente. Oggi ho mostrato dei dati per quanto riguarda la crescita media del numero degli utenti unici mensili, che negli ultimi 4 anni è di circa il 16%, ancora più elevata è la crescita media nelle recensioni. 4 e mezzo, 4 anni fa, 5 anni fa eccetera, parlavamo di 200 milioni di recensioni, oggi siamo a più di 600 milioni di recensioni, più di 310 contributi al minuto, cioè voglio dire, TripAdvisor non solo non è morto come alcuni non auspicavano ma preannunciavano qualche anno fa, ma è più vegeto che mai, più vivo che mai, più energico che mai e quindi sta crescendo enormemente. Sì, vorrei anche più energico perché hai saputo ascoltare e rinnovarsi. Rinnovarsi sempre, sempre, sempre. Va bene Gianluca, io ti ringrazio tanto a nome di tutti per il contributo che hai dato anche tu a questa edizione di Hospitality Day e continueremo a seguirti, Sud Europa o meno, insomma, quindi continueremo a rimanere aggiornati e informati per quanto riguarda la piattaforma di TripAdvisor perché ci riguarda tutti, insomma, quindi sia come viaggiatori sia come, diciamo, utenti, alberatori, ristoratori. Grazie ancora Giancarlo, è stato un piacere e diciamo intanto stay on air.